buongiorno a tutti come state l'acqua bolle è da qualche giorno che non ci vediamo che non ci sentiamo silenzio e qua inizia adesso finalmente a fare freddo direi la temperatura ideale perché fino ad ora c'è stato piuttosto caldino allora l'altra sera che ero in pianura perché ero al lavoro di mercoledì sera sono andata al cinema da sola a vedere un film che effettivamente mi ha molto emozionato le otto montagne devo dire che mi sono ritrovata ritrovata in tante cose visto un po la mia amicizia con paolo è stato veramente emozionante quindi vabbè mi sono comprata il libro che non avevo letto e quindi oggi ho iniziato la mia lettura se vi capita di lesere il libro che veramente mi sembra sia molto rispondente al film cioè nel senso il film è molto rispondente al libro leggetelo oppure andate a vedere il film è un film un pochino lungo però è meraviglioso pieno di bellezza di sentimento e di lunghi silenzi devo dire che me lo sono proprio voluto non mi nascondo che un pochino anche pianto ma ero da sola e quindi non mi ha visto nessuno saremmo stati forse in dieci in quella sala da cinema quindi pochissimi veramente pochi ma ho visto uscire persone con i volti commossi è la storia di una grande bella amicizia amicizia diciamo fra persone ma anche amicizia con la montagna però la montagna è natura e quindi non sempre diciamo fa l'interesse degli umani con questo vi saluto era solo per dirvi questa cosa e per dirvi che se potete e se volete dovreste vederlo insomma perché è un film molto emozionante ecco la parola giusta ora io vi saluto vi abbraccio qui c'è il mio amico blu vieni fatti vedere almeno oggi dai ti fai vedere un pochino no non ti fai vedere ma in su come dicevi guarda io ho sdraiato così con le zappi in avanti ah eccolo eccolo il mio bibbo eh vedete spostiamo questa così mi vedo no ecco il mio bibbo bello è il mio bibbo bello sì salutiamo tutti un abbraccio grande ciao eh senti senti che fischia senti che fischia cosa stiamo hai visto questo è il gufo che mi ha fatto e regalato la giovanna eh bello eh è fatto con il macramè che è una tecnica che non conoscevo molto bello bello grazie giovanna bene ciao a tutti ancora ciao ciao